Il 4 maggio del 2018 abbiamo finalmente un incarico a formare il governo, però è un incarico dato dal Presidente Mattarella a Giuseppe Conte indicato al momento 5 Stelle dalla Lega, ma che Giuseppe Conte ha tramutato lui a un incarico con riserva, ovvero lui si è preso l'incarico di formare il nuovo governo, ma si riserva di arrivare a parlare a Quirinale, Presidente della Repubblica, per vedere se è riuscito nell'impresa di formare questo governo, di formare questa composizione. Quindi non è ancora un incarico pieno, il che fa ancora sedere a Palazzo Chigi, ora ormai in maniera molto simbolica, Paolo Gentiloni, perché finché Conte non porta la lista dei ministri, che quindi vuol dire accettazione dell'incarico, a quel punto avremo un nuovo Presidente che però dovrà poi confrontarsi con il Parlamento, ovviamente se con persone nella riserva vuol dire che ha valutato che esistono le condizioni per portare avanti questo governo. Il Movimento 5 Stelle è felice di questa soluzione, la Lega è felice ma vorrebbe piazzare dei suoi nomi di chiave all'interno del gruppo dei ministri perché comunque si rende conto che è un Presidente che è a metà tra tecniche del politico e fa parte comunque del gruppo Movimento 5 Stelle. La Meloni ha bocciato, questo esecutivo ha bocciato la scelta di Sardini definendo Conte il monte del Movimento 5 Stelle, come il monte, quindi Conte equiparabile a Monti, Monti, espressione di una scelta IPT, Conte del Movimento 5 Stelle. Salvini invece dice che Conte può essere un'ottima soluzione però va appoggiato da un dicastello economico che abbia un chiaro indirizzo a registra e si continua a dibattere, forse la riserva è proprio questo, sul nome di Paolo Savona, che è uno studioso di livello ma non è mai stato così famoso come questi giorni sui 82 anni di vita perché Savona non è amato dal Colle mentre dal Colle sarebbe amato un altro leguista appunto che è Giorgetti. Il Conte ha detto che sarà l'Avvocato del popolo italiano, io mi permetto di dire che gli avvocati me li scelgo personalmente, l'Avvocato del popolo occidente, le tribuni del popolo tantomeno, io vorrei un Presidente del Consiglio che faccia il Presidente del Consiglio per il bene del Paese e ovviamente criticabile da parte di chi si oppone, sostenibile da parte di chi è maggioranza ma eviterei queste nuove dimensioni che poi dall'anno e l'anno anche abbattute altrettanto felici per la direzione allora noi saremmo la parte civile e il gioco della politica torna al solito teatrico. Ognuno faccia il primo compito, lui è un Presidente del Consiglio, ha tutte le caratteristiche per esserlo currico o non currico, faccia il Presidente del Consiglio e in base alle decisioni che prende per essere criticato, ovviamente ci possono essere sostegni o critiche anche a prioristiche nel senso che uno può dire a me l'idea che il Governo e il Movimento 5 Stelle e la Leta non piace, qualcuno può dire a me che il Governo e il Movimento 5 Stelle e la Leta piace. Quindi poi arriveranno valutazioni anche sui fatti che verranno portati avanti però io sono anche contraria alla politica dei fatti. La politica è anche una composizione ideale, altrimenti finisce il suo stressore. Ora lui quindi è atteso al Quirinale per chiudere questo, siamo arrivati quindi a un nome, a un incarico, un passo avanti e poco fatto. Ci sono state moltissime critiche a Battarella, specialmente da parte del Corrente del Movimento 5 Stelle perché Battarella ha posto dei dubbi su Conte, Battarella è stato difeso da Fico, Presidente della Camera che l'ha definito un garante di questa fase istituzionale e Conte ha rassicurato dicendo che il ruolo dell'Italia si esercita all'interno dell'Unione Europea, però si esercita all'interno dell'Unione Europea in modo anche critico rispetto ad alcuni passaggi dell'Unione. Continuano ad esserci preoccupazioni internazionali che poi rischiano di essere un apportativo del governo sul fatto appunto di un governo populista, cosa vuol dire? Non lo so, un governo anti-europeista, però se l'Europa deve diventare un dogma che chiunque critica non ha diritto di governare nemmeno se vince non siamo più in democrazia. Quindi l'europeismo ha un senso, può avere un senso anche l'anti-europeismo, altrimenti siamo nel dogma perché se si dice ci deve credere, a prescindere, deve essere così, allora è inutile anche fare le elezioni, fare questo. È vero che la collocazione internazionale non può essere semplicemente decida da una maggioranza che non ha vinto neppure chiaramente alle elezioni e di questo però Conte mi è sembrato consapevole del brevissimo discorso che ha fatto dopo aver ricevuto un incarico. Allora, Forza Italia, Fratelli d'Italia che pongono la posizione, Forza Italia per bocca della Germania, Fratelli d'Italia per bocca della Meloni, in maniera che estremamente critica, dicendo che Salvini ha tradito le proprie truppe, il PD si pone a una posizione netta rispetto a questo governo, ma questo non sorprende per niente, anche perché comunque il ruolo di Forza Italia e Fratelli d'Italia è legato al fatto che si parla nell'accordo, in maniera sicuramente un po' esplicita, ma è stato criticato duramente, di non belligeranza tra questi due minuti, il governo 5 Stelle e Lega, alle prossime elezioni amministrative regionali, eccetera. Questo cosa potrebbe voler dire? Potrebbe voler dire di Meloni e Berlusconi si giocano il ruolo della vera destra, siamo noi. Salvini è una destra che si è compromessa con il governo 5 Stelle, però i risultati che Salvini ha avuto alle elezioni regionali, compresi quello della Valle d'Aosta ora, vedono un incremento enorme dei voti della Lega. Questo fa piacere a qualcuno e spaventa altri, per esempio anche a Livorno, perché se nel 2019 Lega e a Livorno 5 Stelle dovessero trovare un preaccordo su un candidato sindaco, a ora nei sondaggi sembrerebbe evidente una vittoria netta. Ricordiamo che la Lega in questo momento ha di voluto fare nemmeno un consigliere comunale, però alle elezioni politiche ha preso un risultato incredibile. Ora si parla anche un po' di politica locale perché comunque le elezioni sono vicine. questo quindi asse, Movimento 5 Stelle e Lega crea da una parte per le opposizioni un'autostrada, no? Quindi il PD può dire al popolo di Chiesa, avreste votato Movimento 5 Stelle, votate i legisti che hanno, che sono razzisti, eccetera. Vuol dire alla destra, la vera destra siamo noi, questa è l'autostrada, ma può creare anche un asse perché se si dovesse realizzare una una di miele con il governo, nel senso che il governo fa magari delle misure che piacciono alla gran parte della popolazione, questo schema potrebbe essere uno schema che poi viene ripresentato. Qualcuno vede in questo schema un pericolo per la democrazia, per le valori costituzionali, eccetera, per altri invece è uno schema che comunque ha ristabilizzato il sistema e in questo senso è positivo. Questo evidenzia il grande studente, cioè questo potrebbe essere anche un'ulteriore tappa del sistema bloccato o la tappa del blocco del sistema, no? Nel senso, cioè, che di fronte l'impasto si realizza un blocco che mette chiari paletti sul fatto che o Berlusconi e PD fanno un raccordo o Berlusconi e PD sono tagliati fuori da questo blocco come un blocco caduta a Dazi e quindi un blocco di sistema che potrebbe governare per lungo tempo ma in realtà riproporre il sistema che è sempre stato. Non dimentichiamo, qualcuno mi dice questo il governo è buono perché votano contro PD, Berlusconi, Meloni, che sono i navi del paese vota contro anche la Confindustria, no? La Confindustria è detto che il conto è un consulente della Confindustria, quindi una continuità con ciò che era rimane, però qualcuno dice questo potrebbe essere lo sblocco del sistema, il vero governo del cambiamento, come dice Luigi Di Maio, non sarà più uguale alla politica, una politica nuova vicina ai cittadini e finalmente il blocco di sistema che si è creato nel 1852 si sblocca, mentre altri, come vi ho detto, dicono questa è una tappa che blocca ulteriormente il sistema tagliato. Bene. Grazie. 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 Grazie.